Con il sistema Android Auto di 500 Mirror, utilizzi lo smartphone restando concentrato sulla strada. La prima volta che lo usi, scarica l'app Android Auto e collega lo smartphone alla tua 500 Mirror. Puoi usare la funzione di navigazione GPS di Google Maps. Attiva i comandi vocali di Portami A, seguito da una destinazione. Puoi anche ricercare punti di interesse, come le farmacie aperte o la stazione di servizio più vicina. Fiat 500 Mirror con il sistema Android Auto porta nell'auto le funzioni più utili dello smartphone.